scat man's world e adesso ci dobbiamo sposare ragazzi chiaramente io non ho capito una cosa ho visto che con l'espansione generation che ho posso fare le dieci libatti però dopo che andavo su festa non potevo organizzarla quindi ragazzi ho bisogno di una mano per capire quando dovrò giocare anche da solo come fare perché proprio non ce l'ho fatta proprio mille volte ma non ce l'ho fatta niente non vuole baciare allora facciamo sposati vediamo se possiamo farlo ho messo qua un po di roba vediamo se è giusto ok vuoi sposare troietta che entusiasmo ragazzi ci sposiamo da soli senza un cazzo di nessuno dai fiori passi matrimonio privato potrei organizzare una festa però bu non ho ben capito come cazzo si fa porca troia e quindi c'è da soli che tristezza fiori vabbè ok che bella e adesso ragazzi ok no venezia perfetto unità familiare è giusto adesso dovrei poterte come si dice ok perfetto adesso l'obiettivo è quello di cambiare di cambiare casa fiori andare su una casa più più figa siamo sposati ragazzi è il matrimonio emozionante con nessuno praticamente ok bene se però voglio fare un fichi fichi però c'è elaborazioni ok io però uso sempre uso sempre uso sempre il comendone rilasso di taglia ok perfetto bella adesso vediamo cosa fanno qua i porcelloni guarda ma guarda ragazzi il comendone è andato buono perfetto ah ok stiamo a tagliare la torta nuziale ma che tristezza da soli ho un po' di febbre cazzo il comendone è un po' di febbre guarda che bella ok ce la mangiamo da soli che bello madonna c'è proprio eccitante fai fichi 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 fai fichi fichi mangiamo sta torta cioè la mangiamo da torta da soli che tristezza ragazzi oddio oddio ok vai di fichi fichi ok vai di fichi fichi i benefici fichi fichi vai vai Ashley ok ragazzi il video di oggi sarà molto veloce l'obiettivo del matrimonio nel prossimo video c'era la casa nuova creata dal comendone per fare una casa super mega galattica raga un saluto dal comendone veneziano ciao ciao